Buon pranzo di nuovo, di nuovo buon pranzo. Allora noi oggi siamo sempre tornati da male da poco. Marta mangia un pezzo di calzone, un crocchettone grande e 5 chicken nuggets e l'insalatona. Ok, allora io invece mangio l'insalatona col tonno e qualche zucchina sott'olio. Devo condire l'insalata, sempre cose fresche, voglio perché fa caldo e basta, la pasta non la mangiamo la sera d'inverno, figuriamoci in estate. Ok, com'è Marta è morbida questa chicken nuggets? L'ho cotta bene a mamma? L'ho cotta in frigidiciata, l'ho cotta bene? Sì, meno male, ma pensavo di averle seccate. Ecco qua, ora faccio una bella insalatona e ho dimenticato di prendere il pane. in modo che lo vado a prendere. Voi di questi peggio di cosa mangiate? Penso pure voi cose fresche, no? Per stasera ho preparato la pasta all'insalata, l'ho già preparata. Poi stasera vi faccio vedere. Allora, ti amo, ma che? Vi faccio vedere proprio tutti i procedimenti che faccio per la mia insalatona. Allora, mettiamoci all'interno il tonno. Ecco qua che devo un attimo sgocciolare. Allora, aspetta. Ecco qua, tonno sgocciolato. La metto dentro. Ecco qua. Poi vengo una quartetta pulita e metto due zucchine. Mamma, mastica bene. Le zucchine sotto lì, io le amo, le amo. Fanno un sapore, pure nei panini. Mi piace tipo prosciutto cotto, provo le zucchine speck, scamorze e zucchine. Mi fanno impazzire proprio. Ecco qua. Aspetta. Ok. Oggi vi faccio vedere proprio tutto, tutto, tutto. Ecco qua. Marta, posso mangiare una tua chicennate? Cosa? Sì o no? No, ha detto. Mamma mia. Mangiare di barriamo. Mamma mia. Grazie. No, se ci stanno, non è molto. Facciamo l'assaggio dell'insalatona. Poi vi auguro buon appetito. E ci salutiamo. Ecco qua. Guardate che belli l'insalati. Guarda qui, ha pure i due mandorle e ce le metto dentro. Sì. Ecco qua. Fresca e bella. Buon appetito. Arrivederci. Marta, dice arrivederci? Dice arrivederci. No. Arrivederci.